Un'altra attrice con la quale ho lavorato, non tantissima, ma quelle poche cose che ho fatto erano tutte belle e intriganti, è Luana Borgia. Luana Borgia aveva come caratteristica che sembrava una vera signora, quasi una principessa, quasi una distaccata un pochettino e allora vedere una con la faccia da zoccola che fa delle scene porno può essere eccitante, ma vedere una invece che è tutto il contrario, che sembra una vera signora, che sembra una nobildonna che poi invece se spoglia da una zoccola peggio delle altre era molto intrigante. Infatti Luana aveva questa caratteristica, aveva proprio la caratteristica di essere differente dalle altre, di essere una signora, quasi che tu non ci credi che lei fa il porno, tanto è vero, era più credibile quando a un certo punto aveva dichiarato che si era convertita, che era diventata una santa che andava nel convento. Luana Borgia aveva questo aspetto così monacale e infatti poi si è convertita, invece poi probabilmente non si era tanto convertita.